Musica Adesso sono quasi le nove e mezza di 28 febbraio E non è ancora iniziata Non è ancora iniziata, però nessun problema Sicuro che va in pezzi Io sono Giu-Chun e sono qua con Ari, Lucas, Giuliana, poi David Siamo in cinque, no? Siamo in cinque Perché praticamente c'è un nostro amico Sushi Che dovrà fare un performance in questo teatro Quindi sì, siamo molto eccitati Esatto Ok, siamo molto excited Exciting, sì Ok Sì 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 Adios Adios Che ci permettono di fare qua questa serata Adesso andiamo in vivo Che cosa sono le gente atrali? Le gente atrali sono un spazio per qualsiasi attore Per il formale, danzatore, poeta Che voglia presentare i propri pezzi Propri lavori e propri studi Che sono in via di sviluppo Sono già sviluppati Per un massimo di un quarto d'ora Davanti al pubblico È nata come un'idea Per far incontrare Vali linguaggi all'interno di una stessa serata È aperta a tutti Quindi non è solo un gruppo di persone Limitato È possibile partecipare C'è una garantizzazione mensile E questo Successivamente Questo è un evento a cappello ribaltato Come avete potuto notare Non avete pagato un biglietto In conseguenza Il prezzo del Presidente Voi alla fine di tutto quanto Ma adesso entriamo nel mimo Di questo secondo appuntamento Delle gente atrali di Brutman Burna E facciamo la presentazione Degli artisti Lorenzo Freglio con una luce violacea Elisa Mina con mio marito Francesca Riva successivamente Ci leggerà una lettera Sul teatro di Luis Jouvet Già come vi sceglie Il nostro primo esterno Con la TAMB Alessia Arrigo con Trina sei impazzita Marta Ziola Un'altra esterna Dal nostro gruppo solito Perché proviamo più o meno Tutti da una stessa Da una stessa Trasse di persone Che sta facendo Con la scuola di formazione A Moncaieri Marta Ziola dicevo con 340-530-5822 Bene, inizioni con la madre In forestieri Bene, possiamo iniziare la serata E lascio lo spazio a Lorenzo Freglio Con una luce violacea Mi chiamo Lorenzo E ho preso la madre Non era un tipo comune Passava intere serate su quel terrazzo Non usciva con gli amici a fare quattro piacchiere L'aveva già fatto troppe volte Non aveva più molta voglia Trent'anni era un'età importante Lavorava in una biblioteca Adorava il cinema Sin da piccolo Aveva sempre visto film Che gli erano serviti Per apprezzare Il senso poetico Ed amico della vita Era cresciuto Adesso Neanche più i suoi amici Riuscivano a dargli un po' di soddisfazione Pur essendo ci stata occasione Non scelse la famiglia Un lunatico come lui Ci avrebbe ripensato Nel giro di una settimana Rimaneva sempre sulla superficie dei rapporti Una carta di credito nuova di zecca E ho puntato lo stilo sulla mappa del muro E terminata da andare ovunque fosse capitato Parigi, Calcutta, New York, Dubai Mi è venuto fuori Calamagnola Un mondo intero in cui potevo pescare E mi è venuto fuori Calamagnola Ha detto Il fatto Dai il sconto al fatto Questo potrebbe essere l'inizio della tua nuova vita Ed è così Che mi sono ritrovata Calamagnola Per pregiorni Dopo i quali ho detto A curva E sono salita su un treno per Parigi 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 è un'attività Mi dispiace la verità E bisogna cominciare ad avventerlo Sono stata dappertutto in Francia E' bellissima Ma ma Parigi La cambiamo nella capitale del mondo moderno Io non ero assolutamente alla ricerca di qualcuno Capite La mia fase bianchi Aveva seguito a catena Quella che adesso chiama la fase Billa Drogatene Ed era davvero finito Pietro E non da mignotta E neanche una specie di tromba festival La Sex and the City Di cui discuti con il tuo amico gay Ma era scorta Incarnata La fine di questa fase Sì E' arrivata Però Questa fase è gestata Perché sono stata Con lo stesso tipo Per 4 anni 6 mesi di passione Seguiti da 6 mesi In tempi di batti vecchi Seguiti da 3 anni Di lenti Miserabili E di vino Nel terzo sud E quando finalmente Ci abbiamo messo La vita a sopra C'è stato il sangue Il caos L'atrime Le profilazioni Per mesi Così Ho realizzato Che aveva 25 anni Ed avevo fatto Sesso esattamente Con 3 Il sipario è calato L'aspettato Che non è finito E nessuno E non mi ha trovato Sono salito Nel mio caverino Da solo Che strana sensazione Sempre Quella Di essere ancora Toccati E restaremo così A metà Tra il teatro E la vita Laia Scrivo come Mi ha avuto Nelle osservazioni Della recita Ma questa sera Ho notato Che l'attenzione Del pubblico Al terzo atto Era più alta Un'intesa Del solito E mi sono sentito Commosso E turbato Da una specie Di perdita Di identità Che mi ha fatto Paura La fratella La fratella Come un caverche Che fiammeggiava In silenzio Un riverbero Quasi insostenibile E io dicevo Il mio testo A un mese Sull'orlo Di un abisso Con il terrore Di puntare Su una parola Che c'è Per la vita Beh forse Mi sono mancato Questa sera Il controllo Del san Un tre Forse ho Soltato Si chiamava Claudia La dina Klaus Dobba Con lei Era stato Amore A prima vista Ciò che lo aveva Tirato di più Era Quel suo Coloro Fungo E poi Claudia Era una Che sapeva Smarcarsi In ogni situazione E Anche piuttosto Sfremata Nel senso che Proprio Non aveva Fredi Ma Lui non pesava Anzi Trovava Nesse La loro Relazione Più Eccitante Quanto La carniceria Beh Non poteva Lamentarsi Da quando Claudia Non era Più zotta Aveva due Belle Ronde Ronde Del resto Non si poteva Dire Che la Tratteresse Male Al contrario Era pieno di attenzioni Per lei La copriva bene La sera Prima di andare a dormire E la scopriva la mattina Prima di uscire Andavano insieme a scuola Andavano insieme al mercato Andavano insieme alle poste Andavano insieme persino Andavano insieme a scopriva la cucchia Andavano insieme a scopriva la cucchia E ci bastavano sempre insieme Con lei Filava tutto liscio E Giorgio ormai pensava Che tra tutte quelle Che potevano capitarti Claudia E' la vita E' la vita La luna La bicicletta E' la vita La vita Era stata la luna Per l'incontrare Quella sera Giorgio Tornava a casa Da scuola Dopo l'ennesimo Consiglio di classe Era professore E' la vita Percorreva la strada Meccanicamente Lasciandosi Soprappare Dai suoi Pensieri Senza Cottersi Di quella Luce Che piobbava Dall'incerti In Badello In Badello Per me E' la mia Toccolosi Toccolosi Ottoccolosi 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 A volte Nelle cose Siete Dalle mie parti Tutti erano Intensi Di terra E qualche Annamo E quelle E' la Dottore Che rimaneva Addosso Stalla E Solore Se dovevi Immaginare di fare L'amore Meglio La donna Meglio Gli Inzi Guido La giovane Che la Pele Stimose Di nuovo Ma Meglio Ancora Restare Nella sola Senza D'accordo A nessuno Anzi L'idea Di far Di Buona Che Non mi Sarebbe Disponciuto Affatto L'idea Di Estraneare Dal Mondo E Cresmava Molta Di più Che Mentre Su Quelli Che Mi Si Magli Ha Sempre Fatto Un Mentre Difficile Crescente Appena mi viene in mente Io ho cominciato di mettermi questa cosa anche molto comoda Però ci tenevo a dimostrare il fatto che comunque sotto fossi anche carina Quindi Poi però Non ci sarebbe visto quindi comunque meglio così Io sono molto contenta di essere qui quindi ringrazio l'associazione non so come chiamarla Brut ma Strano Brut ma Un Brut ma Stano Brut ma Glut ma Brut ma Brut ma Brut ma come voi, una spettacrice, ha detto che bella serata, tutti qua dicono delle cose, qualsiasi cosa, ho visto che il livello degli attori, cioè gli attori avevano un livello molto, cioè il livello di disagio era molto alto, disagio tra gli attori e disagio tra il pubblico, perché applaudiva molto, c'è stato sempre il primo, il primo ragazzo che credo fosse lo stico dipendente, perché proprio tu. Sai, hai visto in giro molto bene? Sì, tutte e due insieme, ma non è avanti, non è avanti, non è avanti, lei ne ha anche salutato, lei è stato insieme prima, no? Smettila con quel cazzo di ocula e guarda in faccia! Io prima o poi venivo a vedere, poi io mi faccio vedere, voglio lasciare cosa fosse voi, perché tutto si è sistemato, e dipendente, credi che non lo sappia, no? Tu credi che io non abbia visto come lo guardi insieme quando sono insieme, eh? Io adesso ti dirò un altro, e poi anche non lo ripeterò mai più, tu devi smettere di riparare il sorso e ti devi insieme. Tutti hanno un lavoro che è bello, lascite, un lavoro che ti faccio guardare la roba. Dimmi, cosa abbiamo fatto questa sera? Ho dovuto un paio di viera, poi? No, qua? Qua. Non lo so, non lo so, io non lo so. Io fossi tenuto, sarei all'ordineato, non lo so, 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 non lo so. Perché la vita è come un cavallo morto. In casa è come un cavallo morto. In casa è come un cavallo morto. In casa è come un cavallo morto. Ecco, io dicevo a recolire di noi circa 4 mesi fa, un po' di più. Ecco, è difficile scrivere che cosa, ma scrivere con un aggettivo, la gemma. È una figata, io sono completissimo. L'anno scorso facevo la scuola con tutti i ragazzi, quest'anno abbiamo fatto tantissimi gemmi, noi come loro, andavamo super organizzati. Pensate che addirittura abbiamo fatto... Potresti fare? Ah, ma non c'è? Ho fatto un pazzo di stagera. Grazie, ma che è bello. Bene, ma che è bello. Grazie, grazie. E un pezzo. Grazie, grazie. Grazie, grazie. No, continuate, continuate. Ti devi mantenere questa linea sempre verde. Quale? Ecco, si vede, così non è più verde perché non è bilanciata, in equilibrio. Allora, lo spettacolo di questi ragazzi sono già finiti. Io comunque penso che siano molto bravi. Io personalmente sono molto soddisfatta ed è molto divertente. Ha superato da quello che immaginavo prima di venire al teatro. Comunque, sì, sono tutti bravissimi. E questo vlog è finito di 28 febbraio. Grazie. 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 Grazie.